Tu costruirai un'arca e a bordo farai salire due animali di ogni specie. Tito, Tito, sveglia! Ci spazzerà via tutti! Tranne un maschio e una femmina. Quindi uno di noi è spacciato. E come entreranno? Avanti, toglietevi dai piedi! Gli elefanti faranno la cacca e mi assicura che non si mangeranno a vicenda. Siamo stati invitati al più grande ristorante All You Can Eat del pianeta. Fidati di me, Tito. Ho in mente un piano. E il mio? Fa schifo. Sei pronto a cantare? Finalmente è arrivato il mio momento. Una gara di canto! Lui rugisce un salto e attacca senza pietà. Leone, leone del mondo è lui il padrone. Leo, leone. Leone, leone del mondo è lui il padrone. Leone, leone del mondo è lui il padrone. Come vi è sembrato? Non ha senso del ritmo. Leo, leone, leone. Tito e Vinni a tutto ritmo. Dall'11 aprile al cinema. Mi raccomando, vi aspettiamo al cinema! Radio Italia. Radio ufficiale. Dall'11 a tutti. Grazie a tutti.